E tu, la notte del 10 agosto, hai mai fissato il cielo in cerca di stelle cadenti per esprimere i tuoi desideri? Tutti, almeno da bambini o ragazzi, lo abbiamo fatto. Ma forse non tutti sanno perché si fa e perché proprio la notte del 10 agosto, vero? Nell'antichità, per chi viaggiava, le stelle erano le guide per orientarsi. Per questo si pensava che custodissero il destino degli uomini. E quando una stella cadeva, significava che si era prodotto un cambio nella natura, e quindi nel corso della storia, e quindi si sperava un cambio anche nella propria vita. Per questo si riteneva che il momento in cui cadeva una stella fosse propizio, un'occasione per esprimere i propri desideri che potesse cambiare qualcosa nella vita, chiedendo a quella stella la loro realizzazione. Ma quella del 10 agosto è la notte di San Lorenzo. Sant'Ambrogio narra che Lorenzo fu al suo vivo su una graticola, i cui carboni ardenti furono associati al fenomeno delle stelle cadenti, chiamate anche lacrime di San Lorenzo. Così, nella notte di San Lorenzo, nel vedere una stella cadente, ricordando il martirio e le lacrime di San Lorenzo, si cominciò a chiedere a lui l'intercessione per ottenere le grazie di cui si aveva bisogno. Per questo, la notte del 10 agosto, vedendo le stelle cadenti, si esprime un desiderio. E tu, oggi, che desideri hai? Vorresti che la tua vita cambiasse? Che tuo marito, tua moglie, i tuoi figli cambiasse? Ma se guardiamo bene, dietro ad ogni desiderio, concreto per questo tempo, c'è il desiderio profondo di non essere soli, di essere amati e poter amare. Desideriamo una vita piena, feconda, realizzata, come è stata la vita di San Lorenzo. Perché per non restare soli, occorre dare la propria vita, perderla come un seme che, caduto in terra, vi scompare dentro. Qual è la terra nella quale Dio ti ha seminato? Perché è lì che il Signore ti aspetta, per entrare con te in ogni evento o relazione, offrendo la tua vita, perdendo forse i tuoi criteri, il tuo onore, i tuoi diritti, sulla graticola che la storia e le persone preparano per te. Solo così, infatti, come è stato per Gesù e come è stato per San Lorenzo, tu sarai feconda e non ti ritroverai solo, magari con i tuoi diritti, le tue ragioni, la tua giustizia, ma solo, sterile e frustrate. Ma coraggio, alza gli occhi al cielo oggi ed esprimi i tuoi desideri più profondi. Fissa le stelle che cadono come a ciò che ti sta accadendo in questo tempo. Ci sono dentro le lacrime di Lorenzo, di ogni martire, che sono le lacrime del Padre, il suo amore fatto carne per ogni uomo. Gesù Cristo, sceso dal cielo e caduto nella tua vita, ti ha amato sino alla fine per salvarti e donarti un cuore simile al suo, capace di morire per l'altro, per conquistarlo a lui, per Cristo, perché è questo il molto frutto pensato da Dio quando ci ha creati per la nostra vita. La comunione celeste ed eterna con le persone che lui ha legato a noi perché potessero incontrarlo, accoglierlo ed essere salvati. E che meraviglia! Anche per te, come per San Lorenzo, sono preparati i tesori della Chiesa a nostra madre, i fratelli più poveri e deboli, forse chi ti è più vicino ora, il tesoro che, perdendo per loro la nostra vita, depositiamo in cielo dove è Cristo e dove saremo anche noi con lui e con loro per l'eternità. Grazie a tutti!